Diciamo subito che il volume riguarda Italo Mancini e la sua scuola, perché Don Italo è stato un grande educatore e un grande formatore di ricercatori. In questo senso il volume vuole rendere ragione di Urbino come una città filosofica, cioè una città dove accanto a questa dimensione che Mancini ha sviluppato, vale a dire una filosofia della religione, una filosofia del diritto cristianamente ispirata, ci sono state altre scuole, ad esempio la scuola di Massolo, Salvucci, Sicchirollo, le quali scuole hanno in qualche modo mostrato come Urbino avesse una presenza di pensatori di tutto rilievo. Forse questo libro può essere dunque il modo per avvicinarsi a questa figura, un buon modo per scoprirla? Sì, certamente, riscoprirla da parte degli urbinati in modo particolare, ma devo dire che a livello di specialisti e di studiosi Don Italo è molto studiato in questo momento. Si moltiplicano le tesi di laurea in diverse università, si moltiplicano i dottorati di ricerca che hanno come risultato finale una tesi dedicata a Don Italo. L'ultima è stata discussa pochi mesi fa all'Università di Lugano e quindi Don Italo a 31 anni dalla morte è ancora un pensatore che a livello nazionale ma anche internazionale è studiato, letto ed è considerato uno dei grandi del Novecento. Don Italo Mancini, grande filosofo, proviene da Schietti di Urbino, una grande storia. Io poi sono particolarmente legato perché ho studiato con lui, con lui ho fatto tutto il corso universitario, mi sono laureato con lui, ricordo ancora la tesi, il misticismo di Pasquale, il razionalismo di Voltaire, poi diedo un corso all'Università e quindi mi ha aperto la strada dello studio, della laurea, questo mi ha aperto poi tante altre strade. E sono straordinariamente contento che venga a concludere la nostra iniziativa, il nostro arcivesco Monsignor Salbucci che è una presenza di grande prestigio per Urbino Capoluogo. Un personaggio legato a Schietti, un personaggio che ha dato tanto al territorio ma conosciuto e importante a livello nazionale e anche internazionale. Esatto, partecipo volentieri questa mattina a questa iniziativa dell'Associazione Urbino Capoluogo perché quando si parla di un personaggio, come dicevi, illustre come Donito Mancini, è giusto riflettere perché poi i temi che lui ha trattato sono sempre all'ordine del giorno. Sicuramente un momento per riflettere ulteriormente su questo grande personaggio, su queste urbinate che dopo tanti anni ancora è molto ricordato e noi di Schietti siamo legati veramente col cuore a Donito Mancini. Una figura religiosa importante, un uomo di chiesa, un uomo di cultura, come poterlo riscoprire oggi? Devo dire che cimentarsi con il pensiero di Donito Mancini non è un'impresa facile, nel senso che è un pensiero molto elaborato, molto profondo, frutto di un percorso di formazione ad altissimo livello nel campo filosofico e teologico. Credo che la sua modernità stia proprio nel pensiero che tenta di, come dire, nella modernità, nell'epoca contemporanea, di rendere ragione della dimensione della fede con uno sguardo, appunto una cume che sapeva trarre dal pensiero filosofico, dal patrimonio della saggezza umana e credo che possa rappresentare proprio un ponte di dialogo tra il pensiero credente e la laicità, il pensiero laico. In questo senso credo che la modernità di Donito Mancini sia tutta da scoprire. Tra l'altro è una persona che ha saputo coniugare l'approfondimento del sapere, del sapere filosofico e teologico con un'esperienza di, una concretezza, una capacità di essere ancorato all'umanità in cui era immerso. Quindi si possono riconoscere lui anche naturalmente le radici anche in questa terra, in un'epoca particolare caratterizzata dal passaggio dal mondo antico, rurale all'era industriale, all'era moderna, quindi anche con tutte le sfide poste dal cambio d'epoca, diciamo così. E quindi credo che siamo debitori verso di lui, abbiamo ancora tanto da scoprire.